bella ragazzi a tutti nel comandone veneziano ragazzi abbiamo di indianapolis e pole position per valerossi fioi va che andiamo a vincere un'altra gara me lo sento siamo in forma strepitosa voglio la quarta consecutiva la quinta perché abbiamo vinto catar catalogna olanda saxering e adesso voglio anche indianapolis vai fioi vai ragazzi gran premio da stati uniti l'america indianapolis questa è una gara che vinco sempre e non voglio assolutamente smentirmi in questa volta mentre la parte centrale raga è la mia parte c'è poco da fare il mondiale se fossero solo ste gare vincerei con 100.000 punti di vantaggio per indianapolis di solito c'è il dominio puro del cume ma stavolta è il dominio di valentino rossi perché siamo con vale noi che vogliamo la quarta consecutiva vogliamo la quarta vittoria consecutiva se riuscissi a giocare meglio nella prima parte sarei campione del mondo praticamente non so è pazzesco siamo già in fuga siamo già in fuga marquez purtroppo è secondo ma va bene insomma in fronte che noi vinciamo tutte le gare dove sappiamo essere favoriti dopo il resto lo fa lo fanno anche gli avversari nel senso se dopo gli altri sono bravi arriva sempre i secondi non è certo colpa mia certo io devo rosicchiare più punti possibili qua non ho fatto male l'ultima parte vai però siamo proprio in vantaggio di brutto primo giro già completato in quel di indianapolis ma la gara del sax ring sta bellissima è quella si sta veramente incredibile vai come pompa cube go go pedrosino seccone questo potrebbe essere una bella notizia dai pedrosino dai pedrosino dai camomillo possiamo anche andare tranquilli tanto ripetendo a napoli sai cosi non c'è niente da fare ma tutti i moto gp e non capisco il perché buono stiamo completando anche il secondo giro senza troppi problemi una gara solitare per valentino rossi gli avversari non esistono più e io god buono cube buono cube buono buono cube buono quanto mi piace questo cube quanto mi piace questo cube ok pedrosa sempre secondo è importante avere marches terzo così li rosicchio più punti perché marches lo spauracchio poi c'è anche borneau che è una gara anche quella favorevole moteggi dipende aragon meno philippa isla dipende l'ultima quella curva la saliscendi che se faccio bene quella vinco se la faccio male arrivo ventesimo Malesia bene Valencia benino dai siamo in tabella siamo in tabella e valentino c'è ragazzi partita veramente gara abbastanza noiosa o stra dominato ma a indianapolis è sempre così grande vale adesso rosicchio altri punticini dai che importante rossi festeggia quinta vittoria stagionale quarta consecutiva pedrosa secondo molto bene siamo a meno 26 mamma mia il mondiale stare aprito di maniera devastante bravi fiori bravi fiori bravi fiori raga un saluto nel cubendore veneziano ciao